Chiara Ferragni e Tony F stanno insieme? Ecco tre indizi che lo farebbero pensare. Tony F ha recentemente rifiutato un invito di Fedez per fare una canzone insieme. Chiara Ferragni ultimamente nelle sue storie mette le canzoni di Tony F. E infine i due sono stati visti a cena insieme a Milano. Cosa ne pensi?